Un involto sospetto nelle acque dell'adigetto, segnalato dai passanti, ha fatto scattare la mobilitazione di polizie e vigili del fuoco. È accaduto nella mattinata di mercoledì 2 marzo, all'altezza del ponte del Bassanello. Grazie alla professionalità degli operanti è stato possibile recuperare in breve tempo il pacco, maneggiato con la massima accortezza. Si tratta di una trapunta con all'interno una coperta. Possibili siano effetti personali di uno dei senza tetto che frequentano la pista ciclabile.